Perchè nessuno vuole diventare un supereroe? Semplice amico, perchè restarebbe in vita un giorno al massimo. Già. Io non obbligo nessuno a farlo, ma qualcuno potrebbe almeno provarci. I fumetti si sbagliano. Perchè chiunque se vuole può diventare un supereroe. C'è uno vestito da supereroe che picchia come un matto. È grandioso. Grazie. Chi sei tu? Sono Kick-Ass. Un eroe mascherato è diventato l'ultimo fenomeno di internet. È bravo però. Più che darle, mi sembra che le prenda. C'è qualcuno che conosce l'identità di questo paladino mascherato? Magari uno come lui mi desse una mano. Davvero? Ciao, sono Kick-Ass. Se io fossi Kick-Ass, mi darei al tango argentino. Ma ben presto non fui più l'unico. Kick-Ass ha dimostrato che da solo ce la puoi fare. Kick-Ass! Red Mist! Mi sono fatto male! Andiamo a seppellire il crimine. Poi conoscete gli eroi... ...che facevano sul serio. Parleremo meglio adesso. Ma chi sei tu? Sono Iggy, e lui è Big Daddy. Sai che amartela? Ti ammiriamo. Grazie, ma è troppo per me. Dei supereroi hanno ucciso otto dei miei uomini. Manderò alla popolazione un messaggio pubblicitario. Fare il supereroe fa male alla salute. Vuoi giocare con me? Mi sono sempre chiesto perché fossi il solo. Sono Kick-Ass. Una celebrità. Un supereroe non ha poteri speciali. No. Di conseguenza... ...non ha alcuna responsabilità. E devo ammettere... ...che è una cosa fantastica. Ma come faccio a trovarvi? Contatta il sindaco. Ha un segnale speciale che brilla nel cielo. È a forma di cactus. Cactus!